Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Se siete come me in cerca di un prodotto fresco, leggero, ma soprattutto idratante per questa stagione estiva, allora guardate il mio video e scoprirete un prodotto che non vi deluderà. Il prodotto in questione che tratteremo oggi è della casa Vichy, ovvero una delle case più importanti francesi per quanto riguarda l'acqua termale. Allora è un prodotto con cui io mi sono trovata veramente molto bene, lo sto utilizzando ormai da due mesi, infatti se vedete è quasi alla fine questo prodotto. Di solito io cerco dei prodotti molto leggeri da applicare sulla mia pelle, ovviamente l'ho voluto provare. Stiamo parlando del Mineral 89 di Vichy. All'interno noi troveremo la descrizione con booster quotidiano, fortificante e rimpolpante. Innanzitutto che cos'è un booster? Ma è semplicemente un concentrato di principio attivo che si applica prima di ogni trattamento, o comunque di qualunque altro prodotto. All'interno del prodotto troverete una percentuale veramente molto alta di principio attivo di acido ieluronico e di acqua termale prodotta a Vichy. L'acido ieluronico per la precisione è un glucosamino glicano, che è data così spaventa anche. Ma in realtà è una molecola che produce il nostro corpo e che tutto il mondo animale dei mammiferi contiene all'interno del proprio organismo. È una molecola veramente molto molto utile e di fondamentale importanza per l'idratazione del nostro organismo. Infatti è una piccola molecola che riesce a contenere al suo interno tre volte il suo peso molecolare di acqua. Troverete anche all'interno, come vi dicevo prima, l'89% di acqua termale, proveniente dalla località di Vichy che si trova in Francia. L'acqua termale è veramente un toccasana per la nostra pelle, ma in tutti i modi possibili e immaginabili. Infatti al suo interno contiene davvero tantissimi sali minerali che sono fondamentali per la nostra pelle. L'acqua termale non è altro che un'acqua che viene estratta in profondità nel nostro sottosuolo, a una certa temperatura tra i 20 e i 60 gradi, che è molto importante mantenere quella temperatura lì affinché i minerali che sono all'interno non fuoriescano. Al suo interno possiamo trovare il calcio, che protegge, il potassio che idrata, il silicio che compatta, il magnesio che rigenera, il rame che lenisce, il ferro che ossigena, lo zinco che riesce a stimolare la crescita dell'epidermide e quindi delle cellule epiteliali, infine il manganese che riesce a essere un anti-radicale libero e un anti-ossidante per eccellenza. Il minerali 89 promette in sintesi di Quindi ripolpare, ammorbidire, illuminare e dare un colorito omogeneo alla pelle, tutto questo con effetto immediato. Avete capito bene gente perché dopo solo un'applicazione di questo booster ialuronico avrete un effetto immediato sulla vostra cute. Io l'ho provato e vi devo dire la verità, ho effettivamente visto un miglioramento dopo la prima sera che l'avevo applicato, che poi ho tenuto su tutta la notte, ma effettivamente ha mantenuto la sua promessa. Come applicazione bisogna applicarlo la mattina e la sera prima di qualunque altra crema. Se avete la pelle grassa mi raccomando provate anche il booster da solo, soprattutto in questa stagione calda. La mia votazione finale di questo prodotto è 9 su 10, perché veramente all'applicazione io sulla mia pelle riesco a farlo assorbire immediatamente. La mia pelle è riuscita a ritrovare un colorito molto più omogeneo nell'arco di un giorno e mezzo. Come prezzo è veramente 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 molto molto abbordabile per tutti i portafogli e soprattutto visto che bastano due spruzzate, quindi due gocce del prodotto, è veramente un prodotto a lungo termine. A voi la scelta se utilizzarlo da solo o abbinato alla vostra crema preferita. Ultima cosa, ovviamente va bene per tutti i tipi di pelle, soprattutto non c'è distinzione tra uomo e donna, perché è un booster che va utilizzato indifferentemente per tutti i nostri tipi di pelle, quindi sensibile, grassa, che nega, tutti i tipi, uomo, donna, bambino. La confezione la potete trovare facilissimamente in farmacia e in parafarmacia. Bene ragazzi, il video purtroppo per oggi è già finito. Spero vi sia stata utile la mia recensione su Mineral 89 di Vichy. Ve lo consiglio come prodotto perché io stessa lo utilizzo tutti i giorni e mi sono trovata veramente molto bene. Ovviamente non consiglio niente di quello che io stessa non ho provato più volte e più giorni e più mesi. Mi raccomando, scrivetemi nei messaggi come vi siete trovate con il Mineral 89. Se vi è piaciuto il video, come sempre, non sono qua a farvi la tiritera di nuovo. Lasciate un like che mi fa tantissimo piacere, a chi non fa piacere. Se volete iscrivervi al mio canale, io ne sarei ancora più contenta. Al prossimo video, un bacione e let's talk about!